Facciamo un gioco. Vi ho detto se stas attenzio di lunghe puntate. Troppi spersoni si erino a sta in te aquilè romane. A. Cent. B. Cent mil. C. Un milion. La risposta è giusta e io che del lettere B. In te aquilè romane hai erino a sta cent mil personis. Ti avviso indovinato? Braus! Con qualtra questione di trasporto arrivavano aquilè i marchiadans? A. Con l'avion. B. Con la macchina. C. Con la nav. La risposta è giusta e io che del lettere C. O ben. C'è la nav. Beh, bisogno indovinato. Braus! La risposta è giusta e io che del lettere A. La tonia è giusta e io un chiamesso di lane. Vavi so indovinato? Braus!